La documentazione tecnica a fine dicembre è stata trasmessa agli uffici del Ministero della Transizione Ecologica per la valutazione preliminare. Si tratta del progetto per il ripristino della tratta ferroviaria Caltagirone-Gela nel punto del crollo di oltre dieci anni fa nei pressi di Niscemi. La struttura cedette con due piloni crollati e una tratta ferroviaria interrotta del tutto. Il crollo che fortunatamente non generò conseguenze alle persone avvenne nel 2011 e tre anni dopo quello che rimaneva fu demolito. Da allora la tratta non è mai stata ripristinata. Ad ottobre di un anno fa l'assessore regionale Marco Falcone annunciò l'avvio dell'iter per la gara, progettazione esecutiva e realizzazione delle opere. Questo prevede il procedimento. Falcone parlò di fondi disponibili per circa 10 milioni di euro. Le carte della progettazione inoltrate da ferrovie dello Stato sono arrivate al Ministero. Allo Stato non sono in cantiere particolari sviluppi tecnologici, visto che si procederà con il ripristino di un tratto già prima del crollo, ancora a binario unico e senza elettrificazione. La strada ferrata arriva fino a Gela partendo da Catania. Saranno i funzionari ministeriali che si occupano delle valutazioni via bassa a verificare i dati e il progetto presentati. L'Italfer del gruppo Ferrovie dello Stato ha inoltrato una relazione generale che illustra gli interventi in programma, verifiche che verranno effettuate mentre anche al Senato è stato confermato il progetto per il passaggio dai vecchi treni a trazione a diesel a quelli di nuova generazione ad idrogeno. Tra le tratte che dovrebbero essere coperte dai nuovi treni ci sono anche quelle locali che oggettivamente scontano ritardi enormi. Nel cronoprogramma che è stato illustrato infatti si fa riferimento anche alle tratte della Modica Gela, della Gela Canicatti e della Gela Lentini. Il progetto per i treni ad idrogeno dovrebbe essere finanziato attraverso i fondi del PNRR.